I carri armati e i blindati sono arrivati alla Casa Bianca, Washington, pronti per la parata per la festa dell'indipendenza voluta da Trump. Una celebrazione inedita col presidente che parlerà davanti a migliaia di soldati, mentre gli aerei sfrecceranno nel cielo. Una cornice scenografica ad uso e consumo delle tv. Una scelta molto criticata dai democratici, ma anche dai massimi rappresentanti dell'amministrazione cittadina e da molti ufficiali militari che ritengono che il presidente stia usando le truppe come comparse a fini politici. Una scelta che divide anche i cittadini. È del tutto inappropriato festeggiare così il 4 luglio una festa non politica per gli Stati Uniti e Trump l'ha rubata per farla diventare la festa nazionale del presidente Trump, dice Anne Wright, attivista e colonnello dell'esercito degli Stati Uniti in pensione. Io vedo i tank in strada e ho paura. Mi sento come se avesse militarizzato la nazione ancora più di quello che già è, aggiunge Medea Benjamin dell'associazione Code Pink. Io non penso che sia oltraggioso, però certamente è uno spreco di denaro, ammette John Straubel, diplomatico in pensione. Altri, come Melanie e William, sono entusiasti. Noi amiamo l'America, questa è una delle più grandi celebrazioni del 4 luglio che io ho mai visto. Penso che Trump sia il miglior presidente che abbiamo mai avuto. The best president that America has ever had.